Guerra al degrado al quartiere San Lazzaro. Sull'accesso ovest della città, nonostante gli interventi pubblici e privati e i risultati ottenuti in questi ultimi anni, incombe ancora una grande struttura immobiliare abbandonata, l'ex Hotel Europa. Una struttura su quattro piani con oltre 100 stanze che sarebbe dovuta diventare un albergo a quattro stelle, che giace invece abbandonato in questo stato da circa sette anni. In questa zona, tristemente nota per fenomeni come prostituzione e spaccio di droga, questo edificio è tornato ad offrire riparo a Balordi e senza fissa dimora. Un epilogo che preoccupa residenti e commercianti, costretti a convivere in questa situazione senza prospettive certe di miglioramenti imminenti. Degrado delle strutture vuol dire degrado della zona e degrado delle persone che vanno dentro a vivere in quelle situazioni. I nostri pubblici dovrebbero guardare un po' e salvaguardare la nostra sicurezza, perché se le persone arrivano a fare e compiere questi atti c'è anche un perché. Quindi sì, dovremmo essere tutelate in primis noi commercianti. L'ingresso della città in questa parte ovest è migliorato tantissimo, anche in occasione delle nuove costruzioni che sono state fatte. Purtroppo abbiamo questo degrado che abbiamo alle nostre spalle e ci auguriamo che in questi nuovi eventi sia le proprietà che le varie istituzioni possono correre i pari per vivere meglio di tutto il nostro quartiere e dell'ingresso della città. In situazioni simili, nel recente passato si è assistito all'intervento congiunto di Comune e Questura imporre ai proprietari di edifici abbandonati i lavori di bonifica e chiusura degli accessi. I cittadini del quartiere ora chiedono alle autorità provvedimenti analoghi anche per questo caso. Chiediamo a questo punto che si possa intervenire perlomeno se non si vende, se non si fa niente nella zona dell'ex hotel, perlomeno blindare la casa, blindare l'albergo in modo che non possano esserci persone che entrano. Anche perché è veramente pericoloso. Pensare di entrare lì dentro alla sera è veramente molto e molto rischioso. Concordo in pieno. Proprio murare tutto, far sì che non possono, perché finché lasciano così, pian piano dopo... Ed è un peccato perché si inizia un lavoro e dopo si lascia sempre comunque a metà.